Dati semestrali dell'industria abruzzese, ci sono numeri positivi rispetto allo scorso anno che riguardano l'occupazione e anche l'export? Il dato generale è di crescita, ancorché limitata a numeri di percentuali risicati. I numeri che invece svettano in maniera significativa sono appunto la forte riduzione della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed in deroga, con percentuali del 45% addirittura. Quindi significa che il sistema produttivo sta gradualmente riassorbendo la forza lavoro messa in stand-by dalla crisi economica che abbiamo attraversato. Quali sono i settori trainanti per l'industria abruzzese? L'automotive sicuramente è quello che trascina più di tutti, intanto è vero che le esportazioni in provincia di Chiedi, dove insiste maggiormente questo sistema produttivo, sta andando molto bene. Parlando sempre di esportazioni, devo dire che c'è una discreta ripresa della provincia di Teramo e quindi vuol dire che i nostri imprenditori stanno mettendo a frutto l'internazionalizzazione di cui tanto parliamo. Il masterplan Abruzzo della regione potrebbe essere un ulteriore incentivo per il rilancio? Assolutamente sì, mette in campo risorse ingenti, per la gran parte proprio sulle infrastrutture e quindi metterà in movimento risorse importanti che avranno sicuramente una forte ricaduta nel territorio. Grazie.